Se volete acquistare crediti fifa a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Bene like i dramani bentornati qui con un nuovo video, nuovo pack opening subito senza partire Cioè se partiamo subito senza dire troppe cose parti, parti che c'è il joystick dai, girati Così, niga capito, per fare il meglio niga devi aprire il pollice, capito Aprire il pollice? No, questo qua deve sta, vedi, deve sta così Vabbè basta, niente, spacchettiamo, spacchettiamo no, spacchettiamo giù no Ma io direi di sì, fa 7 mila euro di tempo Abbiamo venduto, abbiamo venduto Ottimo Dai Ottimo Bertonghe Bacca, che dovrebbe avere la Roma Bacca cacacacacawa Bacca cacacacawa Bacca cacacacawa Voglio un titrente Un tri Sogli un titrente Bacca cacacacacawa Bacca cacacacawa Mamma mia Mamma mia Subito Trasciorras Trascendiamo Era molto Trascendiamo Non c'è il 2 senza Trasciorras Non c'è il 2 senza Tref Herman McCarthy Mai visto e conosciuto Grossi Grossi Sempre Sempre Ma poi non è vero che corre così tanto Però vabbè Ah ma noi pensavo che era ormai la scialla la cosa Sì, certo Come no Non c'è la mucca OOOH MASHELL Comunque, regate Funziona Funziona Quando lo pensi davvero Funziona Sì, è un cazzo d'amavo OOOH FACO 2 Maxwell Quanto viale Quanto viale Quanto viale Quanto viale Oggi sono dislessico Vai, ma magari ti vennevo Mamma mia, davvero Però PSG Io, hai pensato a qualcosa Sì Ha un bel libro Ha un bel libro Ha un bel libro blu L'orso della casa blu Amici OOOH Comparano Francese, credo Non sa direbbe Oh, ma che cazzo fai È parte 3 Che cazzo fai Lescott stava all'alcina Cosille Oh, guarda Cosille Ma, vale in cazzo L'altro non voleva 50.000, me lo ricordi Sì, stavano a cesterci Bitzel Comunque, palle Non si trova più niente Ma è zero Lo devi pensare davvero Non è vero Lo devi pensare davvero Aspetta, sto pensando davvero Fatti in cazzo davvero Vai così Ci sarà O non ci sarà Non c'è Vedi, non esulti Quando è il Manchester Non esulti mai Pure se hai vampirsi Questo è il maestro yoga Ha sbagliato sport Perché quest'altro Guarda che roba Guarda che roba Dragon Ball Questo è il maestro Questo è l'allievo Guarda che roba Ma che te Ma che te Ma che le le Ma che le le Attenzione Ma che le le Zazan Kagawa Zazazan Ma Kagawa Bacca Kagawa Paola questo non lo scartare Perché mi sono rotto il cazzo E trova un vilà Mamma mia un vilà Davide è dispettoso Attenzione Un altro pack opening No No Quello tagliamolo da prima Mamma buba Mamma buba Vai 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 Cosa sarà No Fì sarà pare una cifra Parco te quanto è forte oh Fermo 95 di velocità No no Regà Questa abbiamo trovato Vattene Vabbè Una famosa serie A Salai E' troppo E' troppo Salai E' troppo Mamma mia Zeko Magari c'è gira Magari c'è gira Vedi Ginnastica artistica Mamma mia Mamma mia Il Sharaw Il Sharaw Podosco Perché Drei lo ha detto tu e io Ma che cazzo Che cazzo ne so Pensavo se sia 3x3 capito 6,9,8 Uh Magari viene da Roma Tizioni Ciupo voting Che tra poco varrà molto Ma adesso non vale un cazzo Magari viene da Roma No Zero Cabella Vai 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 Deo Si Ragazzi Capitan Futuro Un attimo così Capitan Futuro Voglio manda via El droppa Troppa Ancora lui Magnificamente lui Mandroba Tozzo Matte Che cazzo E questo è fratello di Wanyama Cerca lui Hai mai trovato da cercare google su google montari su montari su montari Ho provato a cercare google su montari 10 di mer Attenzione Come amoooooooo shiro de bordo eg c'e cazzo da fa Non si trova niente zero euro mamma mia che schifo te lo faccio vedere io ti dico che non trovi niente ma è tanto male che vuoi c'ha ragione guarda che non trovi niente guarda vedi? c'ho ragione io noi troveremo toz come no? ehi! mignolè pezzi di merda mamma mia che schifo ma che ne ho trovato? niente toz no io seriamente non so che cazzo ne ho trovato a maxwell è vero a maxwell e poi sarà toz dagli così toz remy gaillarda ne ho trovato eeeh respiri pjanic per non fare rumore ti risvegli di sansone sei chiara comuna l'ultimo proiebolo si messi sbogliatamente non metti mai in effect che possa tirare attenzione eeeh isaxson no ma che? ma sul serio? di nuovo isaxson due volte abbiamo trovato uno che si chiama stromboli che è francese strombauli ma che è un panettone? è un vulcano panettone panettone che rotta cioccolata il nano è l'ultimo ragazzi a meno che non troviamo niente eeeh la nocchia devi morire non posso dire una cosa ma hanno rovinato il video non posso chiudere cura no non schiudiamo con la nocchia no blind chiudiamo con un cieco si questo pack opening è finito anche per oggi è tutto terminato abbiamo trovato un toss che è maxwell e comunque non è male è accettabile e un if molto buono e due if di nuovo isaxson poi un bel sala if che ci sta se vi piaciò anche questo pack opening arriviamo a 10.000 like come al solito per un prossimo bella ciao ciao tra mani becchi tra